Nel 1849 Ippolito Caffi si siede sulla collina di Granarolo e guarda la città sotto ai suoi piedi. Lui è un uomo che ama molto in realtà il volo perché nel 1847 ha preso parte ad un breve viaggio in Mongolfiera che lo ha portato ad esplorare la città di Roma dall'alto. E in effetti anche nella tela conservata alla Galleria di Arte Moderna sembra che il pittore voglia quasi staccarsi dal suolo per andare ad esplorare la città dall'alto per l'appunto. Dal promontorio di Portofino che la chiude ad est fino alla lanterna che è il simbolo della città stessa che ne delimita il confine ad ovest. Ippolito Caffi è il testimone di una serie di interventi urbanistici che sconvolgono la città di Genova. Infatti se al centro della tela vediamo ancora la chiesa di San Michele di lì a pochissimo tempo sarà abbattuta per fare spazio al progresso tecnologico con la costruzione della stazione ferroviaria di Genova Principe. Grazie a tutti. Grazie a tutti.